Un call center per affittare stanze super accessoriate con prostituta annessa, una sorta di centro di smistamento telefonico che, dalla Spagna, indirizzava i clienti verso le case d'appuntamento più vicine alla loro città, su tutta la penisola italiana. Almeno dieci, solo a Pescara, quelle scoperte dalla squadra mobile. Le indagini della sezione criminalità organizzata e straniera della mobile di Pescara sono partite nel novembre del 2017, a seguito di un intervento della polizia in un appartamento della città. I pescaresi arrestati sono Daniele Toro e Fabrizio Sola, ma risultano indagati e sono finiti in carcere anche altre due persone, un milanese e un giovane gestore di una struttura ricettiva a Lecce. Due donne sono attualmente ricercate, entrambe straniere. Ad occuparsi dell'affitto degli immobili era la società immobiliare The Luxury House, che però anziché destinare le case ad affitti turistici, le proponeva alle prostitute per un uso temporaneo. Un'organizzazione complessa, un'associazione per delinquere che sapeva lavorare fornendo vitto e pubblicità alle ragazze che di volta in volta toccavano i vari capoluoghi sparsi per la penisola. Ragazze gestite da una donna che è latitante, che dalla Spagna fungeva, come ha detto bene, da call center, avendo in mano di fatto le utenze che venivano contattate dai clienti in cerca delle ragazze. Ragazze. L'associazione aveva in disponibilità diversi immobili, diverse case prese a prezzi fuori mercato dagli indagati, in particolare da due soggetti pescaresi, che avevano anche costituito una società allo scopo e affittavano a prezzi vantaggiosi per loro, non certo per le ragazze, e appartamenti in cui poi la prostituzione veniva esercitata. Alle ragazze veniva chiesto anche una percentuale sulla prestazione o pagavano solo l'affitto temporaneo di queste abitazioni? In alcuni casi ci si accontentava solamente dell'affitto a prezzo maggiorato, ma in altri le ragazze versavano una vera e propria percentuale sugli incassi derivanti dalla loro attività.